Ciao a tutti e benvenuti nel canale In questo video vi spiegherò come sbloccare l'obiettivo pirocinese Dovete prima di tutto sbloccare il raggio distruttore, inceneritore, quello di fuoco praticamente Dovete dare un colpo magari alla baglia tipo a questo oggetto praticamente E scaraventarlo contro un umano con la telecinese Et voilà, l'obiettivo o trofeo è vostro